Ciao a tutti, mi chiamo Angelo e oggi vi farò vedere le principali funzionalità del B2B Tracking, il portale Metel che vi permette in un'unica interfaccia di visualizzare tutte le vostre fatture, sia attive che passive, di eseguire ricerche, modificare le fatture in errore, esportare i documenti in maniera semplice e rapida. Vediamo come si fa. Come potete vedere questa è la schermata principale che vi appare subito dopo il login. Da questo elenco potete vedere tutti i vostri documenti, sia attivi che passivi. Oppure, aprendo la ricerca avanzata, cercare per codice esito e ad esempio la fattura PA accettata o rifiutata. Per facilitarvi quanto più possibile il lavoro abbiamo presposto un download PDF multiplo oppure un export Excel dove basta indicare quante righe andare a scaricare. Impostando lo stato documento come da modificare, possiamo filtrare tutti i documenti che necessito di un'azione da parte dell'utente e vedremo comparire un pulsante tutto sulla destra. Premendo questo pulsante possiamo andare a correggere direttamente nel data entry l'eventuale errore, fare valida e procedere con l'invio della fattura senza dover rimandare il documento. Per chi ha richiesto la funzionalità, la prima colonna è un campo spuntabile, in modo tale che possa andare a selezionare tutti i documenti che ho già lavorato. Inoltre, nella ricerca avanzata, posso andare a filtrare per documenti letti, lavorati, o non letti, ancora da lavorare. Il B2B tracking vi permette di visualizzare le fatture dell'anno in corso, ma se attivate la funzione storico, da questo pratico menu potrete visualizzare le fatture degli anni precedenti divise per anno. Se ho attiva la funzione cruscotto, la prima pagina in cui atterrerò non sarà più l'elenco di tutte le fatture del B2B tracking, ma questa pratica visualizzazione a torta che mi permette a colpo d'occhio di individuare eventuali errori, ad esempio di validazione, in cui è possibile operare direttamente per correggerli, oppure gli scarti, in modo tale che posso verificare il tipo di scarto e rinviare il documento. Il B2B tracking ha tante altre funzionalità. Non mi sono soffermato solo sulle principali per non fare un video eccessivamente lungo. Inoltre, vengono aggiunte nuove funzioni molto spesso. Per qualsiasi informazione, contatta il nostro reparto commerciale. Grazie per la visione.